Buongiorno da Mondello Il colore è quale ha? Il colore è quale ha? A che paura? Mi conoscono! Signora allora oggi mare? Sì sì certo, oggi a mare Però non avete un po' paura? Tutti sono un po' vicini Non ce n'è covid, non ce n'è covid Non c'è niente In che senso non c'è niente signora? Non c'è niente, è finito tutto, a Palermo non abbiamo niente Dov'è il mio questo? Però sa che potrebbero tornare i contagi Dobbiamo stare a te A settembre ci chiudiamo tutti a casa Ma le mascherine ce le avete? Sì dammi la mascherina Signora Ce l'avete la mascherina? L'avete portata comunque? Sì sì ce l'ha mio marito Marzia vieni qua Perché sa che se vi avvicinate poi la dovete indossare Certo State attenti? Ok va bene Grazie Una buona giornata da Mondello Ciao Ciao Ciao